Ciao a tutti, in questo video vediamo alcuni problemi relativi alla seconda legge di Newton nei moti rotazionali. Iniziamo da questo problema. Un momento torcente di 0,97 Nm è applicato alla ruota di una bicicletta di raggio 35 cm e di massa 0,75 kg. Trattando la ruota come se fosse un anello, determina la sua accelerazione angolare. Ricordiamo che per quanto riguarda l'anello il momento di inerzia è definito come il semplice prodotto tra M, massa, e raggio alla seconda. Conosciamo il momento torcente, conosciamo la massa della ruota e il suo raggio, lo scrivo già in metri. Pertanto possiamo scrivere che M è uguale a I per alfa, seconda legge di Newton per i moti rotazionali. Alfa è l'accelerazione angolare ed è quindi uguale a M diviso I, ovvero M diviso MR quadro. Possiamo scrivere finalmente quanto vale il valore sostituendo 0,97 al posto del momento torcente M grande. Al posto della massa scriviamo 0,75 kg. Al posto del raggio al quadrato, attenzione, dobbiamo mettere 0,35 alla seconda. Le due cose meno immediate di questo esercizio erano 1. Il momento di inerzia per un anello, 2. Il fatto che il raggio andava trasformato in metri. Per il resto la difficoltà ovviamente era molto bassa. Otteniamo un'accelerazione angolare di 11 radianti al secondo quadrato. Qui abbiamo un oggetto che si usa sempre meno, o per meglio dire quasi non si usa più, un CD. Quando viene premuto il tasto play, un CD accelera uniformemente da fermo a 450 giri al minuto in 3,0 giri. Se il CD ha raggio 6 cm e massa 17 g, qual è il momento torcente esercitato su di esso? Qui abbiamo un dato angolare, giri. Lo esprimiamo in questo modo. Theta uguale a 3 giri. Ogni giro è 2π, perciò scriviamo 3 per 2π uguale 6π. Poi sappiamo che il CD inizialmente è fermo, perciò ha una velocità angolare iniziale pari a 0. Ricordando che ω è uguale a 2πf e che questa fondamentalmente è una frequenza, 450 giri al minuto, per ottenere la velocità angolare finale, trasformo i giri al minuto in giri al secondo e moltiplico per 2π. 450 diviso 60 per 2π. 45 sesti per 2π, semplifico 2 col 6, ottengo 45 diviso 3 che fa 15π. E questi sono radianti al secondo. Stiamo mettendo in ordine i dati con le giuste unità di misura. Ho anche il raggio che trasformo in metri, 6 per 10 alla meno 2 metri, e la massa che trasformo in kg, in questo modo, o ancora meglio così. Da quanto visto nei moti circolari, possiamo scrivere che la differenza tra ω² finale meno ω² iniziale è uguale a 2 volte l'accelerazione angolare per lo spostamento angolare. Questo è 0, perciò possiamo scrivere che α è uguale a ω² finale diviso 2θ. La seconda legge di Newton per i moti rotazionali è i per α, dove i è uguale, trattandosi di un CD, quindi di un disco, è uguale a un mezzo MR alla seconda. È un disco con asse passante per il centro. M è proprio il dato che dobbiamo ottenere. Posso sostituire l'espressione che ho trovato per l'accelerazione angolare andando così a riportare qui ω², non scrivo ω finale, è l'unica ω che abbiamo, diviso 2θ. Un mezzo, 1,7 per 10 alla meno 2 kg, per il quadrato del raggio, cioè 6,0 per 10 alla meno 2 metri tutto al quadrato, per il rapporto tra ω alla seconda diviso 2 volte θ. Facciamo un po' di ordine, quindi tolgo qui l'uguale e lo scrivo direttamente così, m uguale e faccio i conti. Qui nel fare i conti ricordo che otteniamo un π alla seconda e qui un π, così uno dei due π. Lo semplifichiamo, il risultato fa 0,0018 newton per metro. Questo è il risultato che stavamo cercando. Un pesce abbocca all'esca e tira la lenza con una forza di 2,2 newton. Il mulinello della canna da pesca, che ruota senza attrito, è un cilindro di raggio 0,055 metri e massa 0,99 kg. Dobbiamo determinare qual è l'accelerazione angolare del mulinello e quanto filo tira fuori dal mulinello il pesce in 0,25 secondi. Ho rappresentato qui i dati del problema e anche un piccolo disegno che rappresenta il mulinello. Possiamo applicare il secondo principio della dinamica per i moti rotazionali, ovvero m uguale i per α. Il momento torcente è determinato da questa forza che agisce e lo possiamo scrivere come r per f. Dal momento che i due vettori sono perpendicolari, l'angolo compreso tra i due vettori è 90 gradi, il modulo del momento è r per f per il seno dell'angolo compreso tra i due vettori, in questo caso lo chiamo fi per cambiare un po' le lettere, ma se fi è 90 gradi come in questo caso il seno di 90 gradi fa 1 e abbiamo r per f. Il momento di inerzia in questo caso vale un mezzo m r alla seconda, perciò io posso scrivere che l'accelerazione angolare α è data da m diviso i, sostituendo ottengo r per f diviso un mezzo m r alla seconda, ma semplifico questo r, porto il 2 a numeratore e ottengo 2f diviso m r e questo mi dà l'accelerazione angolare. Abbiamo due cifre significative e otteniamo 81 radianti al secondo quadrato. Questo è il primo punto del nostro problema. Per il punto b, cioè quanto filo tira fuori dal mulinello il pesce, dobbiamo considerare quello che io ho indicato con delta x, che ricordando i moti circolari delta x è uguale a r per delta teta, che è questo spostamento angolare. Tralasciando i delta possiamo scrivere la legge oraria dei moti accelerati un mezzo alfa t quadro. Questa legge nel moto circolare è l'analoga della legge oraria del moto uniformemente accelerato nei moti rettilinei, dove un ricordiamo nei moti rettilinei abbiamo che lo spostamento è uguale a un mezzo per l'accelerazione per t al quadrato, nei moti circolari abbiamo che lo spostamento angolare è uguale a un mezzo per accelerazione angolare per tempo al quadrato. Allora da questa relazione noi possiamo scrivere che delta x è uguale a r per un mezzo alfa t alla seconda, sostituendo appunto teta in questa relazione e possiamo andare a sostituire i valori, l'unità di misura rimane ovviamente metri perché radianti è un'unità diciamo così virtuale, in definitiva otteniamo 0,14 metri o se vogliamo 14 centimetri. Questo video termina qui, non dimenticate di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, ci ritroviamo al prossimo video, ciao!